Buonasera, carissimi, quante parole ha della nostra storia? Il programma Versaggiando sotto gli astri di Milano, come maggior parte di voi ormai accorrente, è stato creato da me in modo completamente spontaneo. Nell'anno 2015, grazie alla collaborazione con la dottoressa Vera Paola Temari del centro Cericos di Milano e con il suo marito, dottoressa Molino Peci. E così dall'anno 2015, allora 24 anni, attraverso questa grande collina artistica, Paese della poesia, insieme a tutti voi. Tantissimi di voi sono stati alverseggiando presto Cericos fin dalla prima puntata, fin dalla nascita del programma e per quello sono estremamente onorata, orgogliosa e emozionata vedendovi tutti qui, ancora uniti, ancora con lo stesso entusiasmo, con lo stesso affetto, con la stessa luce degli occhi, anzi, luce brilla ancora più forte e ancora più bella, più grande. E per questa vostra emozione, questo affetto donato, non sto continuamente da oltre 4 anni, vi ringrazio a tutti. Vi adoro. E per questo, vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio, vi ringrazio, e adesso vi mandiamo tantissimo ben sostenere al nostro bar, sverseggiando, e alla nostra famiglia, perché siamo diventati una grande famiglia. E quella, spero, vivrà per sempre. Nonostante le alte o forse qualche momento, vanno male. Questa.